Una cosa strana, basta di non dimenticare questa bella camera Poi analisi microscopica, poi analisi quando vuoi in montagna e vedi una batteria ... ... ... ... sono andato domani alle 5 tutto quello che ti chiedi con me ce l'ha un amico un amico che fa questi controlli i sono andato i sono andato i sono andato non mi sono andato e io mi sento andato a posto e io andato controllo l'ho l'ho e io controllo l'ho l'ho e io io mi sento l'ho Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. 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 Cominciamo. Grazie. 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 Ok. Grazie. 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 ah Voi capite che devi trovare distanze o no? Buongiorno, grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Non voglio lavorare, non voglio lavorare, non la volete lavorare, scusato ma non la voglio. Allora ieri è stata fatta una riunione qua, abbiamo squadre femminile e squadre maschile. L'allenatore delle squadre femminile ha detto che si peggiano di più dei ragazzi che fanno tutti i ragazzi. Oh! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.